Oltre 5 miliardi e 700 milioni di euro, di quali 1 miliardo e 600 milioni per la realizzazione dei giochi, il resto per le opere connesse. Sono i soldi che si spenderanno per le Olimpiadi Invernali del 2026, almeno secondo i calcoli ben documentati di una rete di 20 associazioni ambientaliste che martedì a Pieve di Cadore hanno presentato sotto il coordinamento di Libera il report che lancia la campagna Open Olympics 2026. Vogliamo i giochi invernali Milano Cortina trasparenti, legali, rendi contabili. Numeri che hanno spiegato le associazioni non hanno la pretesa di essere un resoconto puntuale e completo delle opere connesse ai giochi, quanto lo spunto da cui chiedere maggiore trasparenza. Spesso infatti, si legge nel testo della petizione, risulta estremamente complesso capire dove siano i dati, essendo costretti a giocare a ping pong tra portali e siti diversi. Chiediamo un portale unico che ci aiuti a fare questo esercizio di trasparenza pieno di dati utilizzabili, riutilizzabili, che ci aiutano a ricostruire l'intera filiera di ogni opera olimpica perché consideriamo questo il nostro impegno per compartecipare al bene comune e quindi anche alle Olimpiadi e Paralimpiadi. Richiesta di trasparenza alla quale hanno fatto ecco i presidenti di alcune delle più note sigle ambientaliste che in una tavola rotonda moderata dal giornalista Gian Antonio Stella hanno lanciato l'allarme sul rischio di infiltrazioni malavitose nell'evento olimpico. Preoccupazioni condivise anche dal fondatore di Libera, Don Luigi Ciotti, tornato per un giorno a casa, che in chiusura di giornata ha richiamato tutti al dovere della responsabilità. La legalità mette radici solo in terre fertili di responsabilità e qui ci sono date appuntamento associazioni di vario tipo ma molto impegnate per i diritti, per la tutela dell'ambiente, per porre delle domande, di dubbi, di interrogativi rispetto alla situazione e i pericoli di forme di illegalità rispetto alle Olimpiadi. Soprattutto perché non c'è un'attenzione, un ascolto sufficiente che necessario come dovrebbe essere da parte delle istituzioni. Anche perché non possiamo dimenticare che la democrazia in un paese o è partecipazione o non è democrazia.